ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ad un longjin longjin master collection small seconds questo è il nome completo di questo modello che è uscito da poco è appena uscito saranno due settimane e vada a rappresentare la continuazione di quel modello che fu presentato per il 190esimo anniversario di longjin quello con quel bel quadrante con i numeri arabi incisi nel quadrante no però quello era 40 mm era un po il suo limite che un limite che lo collocava nell'ambito un po più sportivo questi nuovi orologi sono invece a 38.5 mm e con i piccoli secondi a ore 6 una tipologia di orologio che raramente si riesce a trovare sul mercato vanno a demolare quegli orologi degli anni 50 riportandoli però con caratteristiche e peculiarità moderne non si trovano spesso questi tipi di orologi in giro e longjin ci ha pensato ho deciso di portare la versione bianca perché è quella un pochino più strana strana perché ad esempio al momento in cui sto registrando sul sito web di longjin non c'è c'è la versione con quadrante nero bella accattivante sempre con quadrante goffrato e la versione con quadrante salmone rame con quelle striature verticali queste due qua sono presenti quella bianca non c'è ancora e anche nelle presentazioni che ho visto sui portali online quelli più famosi la versione bianca non compare ancora io questo orologio chiaramente me l'ha messo a disposizione l'amico giacomo titolare della gioielleria pasquale domenici di via reggio che è partner ufficiale del canale concessionario del marchio e che vi offre un trattamento di favore a voi che state guardando lui ce l'aveva gli è arrivato questo e quello color rame color salmone e io chiaramente ho preso questo qua bianco perché è una particolarità che poi va anche a smentire i soliti luoghi comuni che il quadrante bianco è quasi illegibile no in questo caso è veramente legibile quindi ha tutte le caratteristiche per rientrare nei miei gusti va quasi a scalzare il longjin legend diver che è il mio prossimo no obiettivo questo qua ci arriva vicino è molto classico come piace a me come piace a me adesso prima di girare la camera e mostrarvi l'orologino vi mostro l'orologio del giorno che questo simpatico brasil in cronomat 40 mm un simpatico orologio con il suo bracciale olu che tanto ci piace è una caratteristica peculiare di questo orologio questo bracciale particolare incassa un calibro semplicissimo un età 28 93 niente di cui strapparsi i capelli ma un resto calibro ben fatto certificato COSC e a me piace molto un bello orologio adesso giriamo la camera guardiamo la panoramica e io vi aspetto qui come al solito per le considerazioni finali iniziamo come al solito partendo dai risultati delle misurazioni effettuate diametro cassa 38.3 mm spessore 10.5 ingombro trasversale al polso 44.5 mm interasse ansa da 20 mm misure che indicano chiaramente quanto attraente possa essere questo orologio stiamo parlando di proporzioni quasi perfette in quanto l'esiguo spessore è perfettamente coerente sia con il diametro cassa che con il lag to lag un orologio indossabile praticamente da qualsiasi circonferenza di polso in quanto ritengo che un orologio piccolo possa star bene anche sui polsi di dimensioni generose un orologio che fa delle forme sinuose la sua cifra stilistica predominante lo si nota lateralmente laddove il lato carrur ondeggia da ansa da ansa senza soluzione di continuità ma anche nella bombatura della lunetta che mette in mostra un profilo curvo che dolcemente va a legare la cassa al vetro zaffero quest'ultimo è completamente piatto e da filo con la lunetta stessa non sono quindi presenti curvature del vetro distorsioni visive e smaccati richiami al vintage l'essenza della classicità è qui proposta utilizzando soluzioni contemporanee e non è così scontato riuscire ad ottenere l'effetto desiderato la finitura globale della cassa è lucida una scelta in linea con lo spirito conservatore dell'orologio spirito che induce ad un utilizzo circoscritto le situazioni meno gravose non si tratta di un orologio da utilizzare durante un'escursione montagna a meno che per escursione non si intenda una cena in baita insomma teniamo presente che si tratta di un orologio che ha bisogno di protezione magari cercando riparo sotto il polsino della camicia cosa del tutto naturale in quanto l'esiguo spessore rende semplice questa operazione a delinearlo come orologio elegante contribuiscono poi altri fattori quali l'assenza di luminescenza sul quadrante è il fatto che la resistenza alla pressione sia di sole tre atmosfere non sono caratteristiche necessarie e soprattutto sono figlie della ricerca della sottigliezza generale infatti il fondello è sottile e semplicemente fissato alla cassa a pressione a differenza della maggior parte dei longin di ultima generazione ha il fondello in vetro zaffero questo mi dispiace un poco in quanto gli preferisco quei bei fondelli chiusi e sapientemente decorati c'è da dire che l'effetto ciambella è scongiurato grazie al diametro contenuto della cassa direi che il rapporto acciaio vetro è tutto sommato proporzionato al di sotto batte il calibro l89 3.5 che vede come suo antenato l'eta 28 92 che ha poi subito varie modifiche in cascata fino a raggiungere questa denominazione che con le sue 25.200 alternanze orarie rappresenta un unicum in casa etta solamente gli orologi longin incassano questi calibri a 3.5 hertz da segnalare la presenza della spirale in silicio monocristallino che ne garantisce l'antimagnetismo ma torniamo al lato a il quadrante il fondo è apparentemente bianco ma in realtà la finitura a microgranuli lo rende leggermente scuro tendente al grigio chiaro una finitura che lo rende altamente leggibile in quanto tutti gli elementi presenti hanno caratteristiche di forte contrasto quali sono i particolari da evidenziare intanto i numeri arabi in stile breguet presenti a corollario sono realizzanti tramite asporto di materiale appaiono quindi scavati nel quadrante mettendo in luce il vivo metallo sottostante la precisione e la nitidezza dei bordi sono di certo da rimarcare inoltre appaiono ottimamente leggibili nonostante non sia stato fatto alcuno sforzo aggiuntivo per metterli in evidenza sono incisi e stop aggiungiamo l'assenza del datario per qualcuno sarà un minus ma ritengo che l'eleganza classica di questo orologio venga messa ancora più un risalto grazie all'equilibrio del quadrante senza finestra c'è poi il sottoquadrante dei piccoli secondi posto ad ore 6 un sector daia con finitura concentrica che aggiunge appela all'insieme degli elementi da notare la piccola sfera a foglia che viene poi ripresa per le due sfere principali una sagoma nata negli anni 50 che porta a conseguo il sapore retro che tanto si addice allo stile in questione se non bastasse la tonalità scelta è un blu scuro che in alcune situazioni appare nero ed in altre azzurro niente da dire sulle scelte cromatiche e sui contrasti che si vengono a creare insomma allontanandoci un poco vediamo un quadrante che sviluppa la sua simmetria in verticale grazie al posizionamento della scritta longina ad ore 12 e piccoli secondi ad ore 6 da rimarcare poi il rio inclinato di 45 gradi che da sempre contraddistingue la linea master collection chiudiamo la panoramica come spesso accade col parlare del cinturino in alligatore ma non il solito nero stiamo parlando di un grigio scuro che per giunta è opaco devo dire che apprezzo la scelta riesce a coniugare classicità e modernità qualitativamente parlando è ottimamente realizzato con solide cuciture e con la parte interna in cuoio beige lo spessore consistente e porta però con sé la conseguenza di essere piuttosto rigido molto rigido ne parlerò poi nelle conclusioni finali un valore aggiunto e poi rappresentato dalla chiusura deployant in stile farfalla con pulsantini di apertura la sezione aperta va fissata ai fori del cinturino rimanendo quindi vincolata alla lunghezza che intercorre tra essi come se ci fosse una fibbia ed un ardiglione in sintesi possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali come sapete sono un estimatore di longina e questo orologio ne rappresenta l'essenza stilistica 38 mm piccoli secondi no data numeri incise insomma tutte caratteristiche che lo rendono l'orologio classico perfetto il tipico orologio formale degli anni 50 se gli orologi ad appolso iniziassero la loro vita oggi questo sarebbe il formato con il quale verrebbero prodotti secondo me questo aspetto qua è quello contemporaneo di partenza che utilizzerebbero sì questo inutile dire che il mio entusiasmo certifica il fatto che per me l'orologio è promosso ci sono punti deboli si magari ininfluenti pretestuosi quello che volete ma qualcuno lo possiamo trovare il fatto che abbia fondello a pressione corona a pressione e solo tre atmosfere di impermeabilità lo vogliamo considerare un minus buttiamolo dentro per me non lo è perché un orologio classico formale da utilizzare in determinate situazioni e non certo da portare sulla spiaggia o in barca chi lo fa è fuori di senno diciamo così è un orologio da utilizzare senza pensieri sì ma in situazioni formali orologio che contro l'atmosfera regge il lavaggio delle mani gli schizzi d'acqua la pioggia ok però va preservato non va utilizzato in ambienti nemici all'orologio devo inoltre segnalare che la rigidezza del cinturino è notevole in particolar modo questo vuole essere un consiglio che vi do quando andate a provarlo in gioielleria non fatevi spaventare arrivate già con con le idee chiare nel senso che approva alla prima prova al polso vedrete che il cinturino è talmente rigido da far sollevare la testa dell'orologio e vi starà sollevato dal polso non fatevi fregare da questa da questa particolarità diciamola così da questo punto negativo perché è dovuto al cinturino che è molto spesso e molto rigido io confido che con l'utilizzo si possa poi ammorbidire e fasciare bene il polso solitamente è così ci sono anche dei sistemi artificiali artigianali per ammorbidirlo un pochino con determinati prodotti volendo no ma io penso che l'utilizzo sia il miglior sistema per ammorbidire il cinturino quindi non fatevi fregare quando andate a provarlo vedrete che vi sta sul polso dritto e direte ah non lo voglio non fatevi fregare da questo insomma un semplice consiglio per il resto non vedo altri punti deboli sinceramente un orologio che a parer mio è completamente promosso e potrebbe anche un giorno entrare nella mia collezione non si sa mai boh mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino a qua e spero vi sia piaciuto il video e l'orologio non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love